Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi presento la crema pasticcera con l'utilizzo di un solo uovo. Molto richiesta da voi. Qualche giorno fa ho preparato anche della crema pasticcera vegana senza glutine e senza nickel. Oggi invece voglio accontentare molti altri. Basteranno pochi e semplici ingredienti. Potete aromatizzare con una bacca di vaniglia naturale oppure con della scorzetta di limone bio. Ecco qui il procedimento. Vi lascio scorrere in video gli ingredienti e la preparazione. Ma non dimenticate che la ricetta completa potete trovarla in descrizione in modo da seguirla con molta calma e salvarla. Vi ricordo di lasciare un like, di attivare la campanella e di iscrivervi al mio canale. Baci e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Grazie a tutti.